Due donne con una grande passione per la chimica e un'idea, creare un'impresa attenta all'ambiente e agli animali. Oggi, 33 anni dopo, quel sogno è realtà. Ce lo mostrano un gruppo affiatato e due aziende a retine, quasi tutte al femminile, che hanno saputo trovare un mercato in Italia e all'estero. Prima è nata labor chimica, specializzata in analisi e ricerca in molti ambiti. Poi, proprio da questi laboratori, è arrivata una nuova sfida. Da questa attività di ricerca, praticamente, abbiamo deciso di costituire la società Union Bio, con la quale abbiamo iniziato a progettare e a formulare prodotti naturali destinati ai piccoli animali, ai cani e gatti, per il benessere e per la bellezza di questi piccoli animali. E' qui dentro che noi, appunto, formuliamo, quindi pensiamo, progettiamo e poi, appunto, testiamo in vitro i nostri prodotti. I prodotti sono assolutamente naturali, quindi sono privi di sintesi chimiche, quindi di elementi di sintesi chimica. Sono, quindi, fatti con oli essenziali, estratti glicolici, idroalcolici, però sono tutti prodotti assolutamente naturali, quindi che provengono dalle informazioni della natura. Oggi, queste due aziende fanno ricerche e producono solo in Toscana. Danno lavoro a una ventina di persone, il 90% è rappresentato da donne e la forte presenza di professioniste dà una marcia in più a queste imprese. Lavorare in questo ambiente è molto bello, perché è un ambiente molto partecipativo, c'è molto rispetto tra le persone, le persone sono molto competenti e quindi anche l'ambiente di donne è un ambiente piacevole. Le ultime novità uscite dai laboratori sono le due linee Mr. Dog e Miss Cat, che impiegano solo estratti vegetali certificati e che non sono testate sugli animali. Anche i nostri amici a quattro zampe hanno bisogno di attenzioni, ma con qualche accorgimento. Ora si puliscono un pochino le orecchie con il detergente. Basta aprire appunto l'orecchio dell'animale, versare alcune gocce all'interno, massaggiare leggermente, con delicatezza, e pulire eventualmente l'eccesso di prodotto o il cerume presente nell'orecchio. Per quanto riguarda il lavaggio, ovvero e proprio, quindi con uno shampoo e dell'acqua, è sempre importante scegliere uno shampoo per animali, meglio se naturale, che quindi sia privo ovviamente di siliconi, peg o parabeni, che possono disidratare il pelo, eliminare il grasso cutaneo dell'animale esponendolo a patologie. È importante, piuttosto che lavare molto spesso l'animale, utilizzare invece quotidianamente dei prodotti sempre naturali, a base diciamo per esempio oleosa, che possono semplicemente pulire il pelo, senza la necessità di doverlo per forza lavare appunto con dell'acqua. Prodotti contro pulce e zecche per la pulizia d'orecchie e pelo, shampoo, igienizzanti per tessuti. I prodotti Mr. Dog e Miss Cat sono tutti naturali e sono arrivati ora anche in nove grandi punti vendita di Unicop Firenze per prendersi cura di fido e micio in modo naturale.